Ehi, salve, Kyle! Io sono il padre di Chris Griffin. Io sono il padre di Chris Griffin. Questo non è molto carino, io non ho affatto quella voce. Mi stai facendo sembrare tipo Michael Stipe? Ascolta, io voglio solo che tu sappia che quello che hai fatto ieri è sbagliato. Quello che hai fatto ieri è sbagliato? Così non faciliti le cose, Kyle. Non faciliti le cose, Kyle. Mi chiamo Peter Griffin, sono un ciccione col sedere al posto della faccia. Ora smettila, Kyle. Sono Peter Griffin, sono una palla di lardo super idiota. Kyle, ti ho detto di smetterla. Sei una mega caccola. Ehi, Peter. Allora, che si dice? Qualcosa che non va? No, 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 no. È tutto a posto per ora. Più tardi potrebbero esserci dei problemi, ma ce ne preoccuperemo quando sarà. Pronto? Peter ha fatto cosa? Beh, sarà meglio che vada al lavoro ora. Sono le nove di sera. Ecco, l'hai detto. Ok, ci vediamo, eh. Peter, scendi da quell'albero immediatamente. No, perché poi mi sgridi. Ci puoi scommettere che ti sgrido? Hai messo le mani addosso a un ragazzino di 13 anni. Mi insultava di continuo. Hai 43 anni suonati e hai preso a pugni il figlio dei nostri vicini. È una faccenda molto grave. Forse avresti dovuto abortire. Ti avrebbe reso felice se non fossi mai nato. Cosa? Andrò in prigione, non è vero?